E tre? Chiama due? Chiama uno? Chiama due? Chiama due? Chiama due? Chiama suush페 Oh, oh, oh! oh madonna 3 3 4 5 5 5 6 6 6 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 24 24 25 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 bella roba bella roba Rettrino abbastanza lungo lo mettono? 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 Grazie a tutti. 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 Salto. Salto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Curva. Grazie a tutti. Salto. Grazie a tutti. Salto. Adesso. Adesso. E poi c'è. Grazie a tutti. Una macchina. Un'altra. Grazie a tutti. Un'altra. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.